Meteo incerto al matrimonio. Che fare? Dentro o fuori? Un anno a pianificare, immaginare di allestire l'aperitivo, addirittura quel bellissimo tavolo imperiale nel giardino e poi il giorno del matrimonio e le previsioni sono incerte. E' la situazione più scomoda in cui possono trovarsi wedding planner e responsabili del catering. Perché se il meteo dà per certo pioggia o tormenta, un po' ci dispiace ovviamente, ma si va col piano B che dovrebbe essere sempre considerato. Ma l'incertezza, quando due sì ti danno pioggia al 60% e due al 40% e la sposa ti chiama e ti dice dai ti prego proviamoci e tu sì che ce l'hai piano B, ma sai che l'allestimento non darebbe lo stesso risultato se fatto all'interno. Beh, amica, in quel caso è un gran casino capire come comportarsi. Ne parliamo nel video di oggi. Io sono Monica, dopo 10 anni in comunicazione ed eventi e altri 10 nell'organizzazione di matrimoni, ora aiuto wedding planner e professionisti del wedding a far fiorire la loro attività e a renderla profittevole, appagante e in equilibrio con la loro dimensione personale e familiare. Se il mondo del wedding è anche il tuo, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere i prossimi video. Puoi anche accedere a una library di risorse gratuite che ho creato apposta per te per supportarti in questo viaggio. Ti lascio il link in descrizione. Ma torniamo al meteo. Dopo 10 anni come wedding planner è davvero l'unica cosa che ancora riesce a mettermi in crisi, perché anche quando hai un piano B buono o discreto, sai che non sarebbe la stessa cosa. Solo ogni tanto il piano B è davvero equiparabile o addirittura superiore al piano A. Riavete studiato quell'allestimento appositamente per l'esterno, il giardino magari è pazzesco, la vista è bellissima, volete cenare sotto le stelle. Insomma, i motivi potrebbero essere tanti per farvi esclamare accidenti nel caso doveste attivare il piano B. Ma oggi voglio riflettere su questo tema un pochino con voi. Iniziamo. Chi decide se preparare dentro o fuori? Sì, perché diciamocelo, può anche capitare il cliente che ti dice preparate fuori, non pioverà. E tu a quel punto che fai? È il committente che paga. E quindi, in teoria, dovrebbe poter essere lui ad avere l'ultima parola. E questa non è una questione da poco, eh. È una situazione che personalmente non mi è mai capitata, ma è capitata a un fornitore con cui collaboro molto spesso, un catering di alto livello, che si è trovato in questa spiacevolissima situazione. Il meteo era incerto, ma davano pioggia con una probabilità molto alta. Il catering aveva consultato più siti meteo, aveva guardato anche l'evoluzione satellitare, aveva fortemente consigliato il cliente di allestire all'interno. E il cliente no, non ha voluto sentire ragioni, ha deciso di allestire il pranzo a buffet, era un pranzo, si trattava di un pranzo a buffet, fuori. Mi prendo io la responsabilità? È quello che questo cliente ha detto al catering. Ma qui il problema non è capire di chi è la responsabilità. Un cliente che agisce così, poi magari non verrà a chiederti danni, si spera. Ma agli occhi degli ospiti, di chi sarà la responsabilità? Chi è che avrà fornito un pessimo servizio? A quale nome associeranno l'evento disastroso? Perché è questo quello che è successo, un disastro. Il tempo ha tenuto fino all'arrivo degli ospiti e poi è venuto giù il diluvio. Gli ospiti hanno, come potevano, insomma abbastanza velocemente riparato all'interno qualcuno bagnandosi un po', ma non era questo il problema principale. Il problema principale è il cibo, le tovaglie, i camerieri che cercavano di portare dentro il salvabile tutto fradicio. Quello stesso catering mi ha raccontato di aver deciso, dopo quell'esperienza, di inserire nel suo contratto una clausola che attribuisce a loro, quindi al servizio catering, la decisione finale di dove allestire. Quello che mi ha detto è stato, abbiamo lavorato anni per avere una buona reputazione sul mercato, un'immagine di prestigio sul mercato e in quella situazione sì abbiamo salvato l'evento, ma non ai nostri standard. Non ai nostri standard di presentazione, qualità, servizio. Ecco, mi ha fatto riflettere questa cosa, in effetti inserire una clausola a contratto è una buona idea direi e anch'io credo debba essere il catering ad avere l'ultima parola. Preallestimento. L'evento l'avevano salvato grazie a un preallestimento all'interno, fatto di loro iniziativa e senza neanche consultarsi con il cliente. Avevano allestito e tovagliato dei tavoli all'interno e no, non tutti i catering hanno al seguito tavoli e tovaglie per un eventuale doppio allestimento. Quindi avevano preallestito all'interno, avevano anche aspettato a tirare fuori, diciamo, tutti i piatti. E meno male perché la maggior parte di quello che era stato presentato a tavola è finito direttamente poi nella spazzatura. Un preallestimento all'interno è una mossa saggia di chi vuole correre il rischio davanti a un meteo incerto. Fattibile solo per buffet, direi, perché un doppio allestimento interno-esterno di un tavolo plassé è invece molto più complesso. Non che, per carità, non che sia impossibile, ma avrebbe un costo non indifferente, insomma, non avrebbe forse molto senso. A passaggio, la gestione last minute di un dentro fuori in funzione del meteo è qualcosa che fanno molto bene in Inghilterra. Come sapete, io ho parte della famiglia che vive lì, nel paese del pioggia sole, pioggia sole, nell'arco di 30 minuti. E ho visto molto spesso i buffet di aperitivo gestiti esclusivamente a passaggio e senza arredi in esterno. Quindi durano meno perché tutti in piedi per due ore, come si fa da noi, sarebbe un po' too much, ma è un'ottima soluzione che funziona molto bene per loro, per la loro specifica situazione e funziona se si vuole essere davvero flessibili last minute in funzione del meteo. Ne accenno qui perché, perché quando l'ho notato, ai dues ai quali ho partecipato, ho proprio pensato, smart questa mossa. Teli pittore. Un'altra mossa molto saggia è quella di dotarsi di teli di plastica, i classici teli da pittore. Dovrebbe averli il catering, ma anche la wedding planner nel caso in cui il catering li abbia dimenticati. Questi teli fanno spesso il miracolo di proteggere i buffet o a volte proprio i tavoli del plassé da una pioggia, da un piovasco improvviso pre-evento. Perché? Perché non è che se le previsioni ti dicono 40% allora vai tranquillo che non piove. Nel 40% di situazioni analoghe ha piovuto. E quindi ecco, forse due parole dovremmo anche spenderle su come interpretare le previsioni e dove consultarle. Nella mia esperienza le previsioni diventano ragionevolmente attendibili a tre giorni dall'evento. Si guardano almeno 4-5 siti, poi ce ne sono uno o due generalmente a cui diamo più fiducia. Nel mio caso, io la mia fiducia la do più volentieri al sito dell'Aeronautica Militare. Ti lascio poi il link in descrizione. Ma devo dirti anche che non tutti i fornitori con cui collaboro sono d'accordo con me. Mi sarei aspettata, a dirti la verità, negli ultimi anni un sito o una qualche app che in qualche modo comparasse i migliori siti meteo in un unico luogo. In realtà ce n'è di questi siti o di queste app che fanno questo lavoro di comparazione. Ma nella mia esperienza non funzionano bene, almeno io non ho ancora trovato una soluzione che mi convinca. Per cui bisogna ancora passare da un app all'altro o da un sito all'altro se vogliamo fare noi una comparazione. Ci sarebbe anche molto da approfondire sull'interpretazione di queste previsioni. Cosa significa pioggia al 50%? Vanno guardati anche i millilitri? Ecco, qua mi piacerebbe in realtà invitare un esperto e approfondire con lui questo argomento. Ed è qualcosa che penso di fare in un prossimo video. Quindi quando quel video sarà disponibile lo metterò tra i link in descrizione. In fin dei conti le previsioni meteo sono molto importanti per chi esce in barca a vela, per chi va a scalare la montagna e per chi organizza matrimoni. Un ultimo punto che vorrei trattare in questo video è questo. Flessibilità a stravolgere i piani. In caso di meteo incerto diciamo che ci andrà bene nella maggior parte dei casi perché abbiamo detto corriamo il rischio solo quando la probabilità di pioggia è bassa. Cioè quindi solo quando il rischio è basso. Ma in alcuni casi può andarci male comunque. Dunque, in questi casi è grazie alla flessibilità del team dei fornitori che ci si può portare a casa l'evento. Tu ricordati una regola basilare. Fintanto che gli metti un buon drink in mano e della bella musica, gli ospiti si dimostreranno sempre comprensivi. Anche se li costringi in situazioni un po' scomode perché magari li devi parcheggiare per un po' per dare il tempo alla squadra di riorganizzarsi o riorganizzare gli spazi. Questo magic trick ha salvato molte situazioni. Tu nel dubbio, subito cocktail e musica e non sbagli. Ti giuro che non sto scherzando. Tu dammi retta e non dimenticartelo. Tienitelo sempre qua nel retro cervelletto perché vedrai che questo consiglio prima o poi ti tornerà utile. Bene, per oggi è tutto. Siamo pronti a salutarci e a darci l'appuntamento al prossimo video.